Una mandria di bufali imbizzarriti attraversa di corsa un paesino travolgendo tutto quello che incontra nel suo passaggio. Un topo di campagna corre al loro fianco. Un amico lo vede e gli chiede, che stai la fa? Il topo interpellato si ferma un attimo e col tono delle grandi occasioni risponde, stiamo a fa un casino. Questa storiella ci conduce direttamente al grand'affare di Matteo Renzi in queste ultime settimane e lascia immaginare quanto può succedere dopo la breve pausa festiva. Nello scenario dell'epopea della vaccinazione di massa, dell'utilizzo di ingenti risorse provenienti, ammesso e non concesso che sapremo spenderle per il rilancio dell'economia visto che non ce la daranno per continuare come vorrebbe il governo con la politica dei ristori. Dal Next Generation Seu, Renzi ha intuito, al ragazzo non manca il fiuto politico, che si sono messe in movimento forze importanti intenzionate a consegnare tutto il pacchetto in mani più affidabili. Così il leader di Italia Viva sta tentando di prenotare un posto in prima fila, anche se non ha ancora ben chiaro quale saranno lo spettacolo, la trama, chi gli autori, i protagonisti e la regia. Il senatore di Rignano però ha dei limiti, il suo partito rappresenta il pezzo più piccolo del puzzle dell'attuale maggioranza, se dovesse venire a mancare quel pezzetto la figura d'insieme si paleserebbe comunque. Dunque, quarto non era presente tra i soci fondatori della maggioranza rosso-verde, in questo Parlamento, poi, verrebbero molto probabilmente allo scoperto forze, ora in posizione di chiaro-scuro, che potrebbero prendere il posto del suo gruppo e sostituire i suoi voti. Il personaggio poi presenta talune caratteristiche particolari, è un accanito giocatore che, alla roulette, punta l'intera posta una volta sul rosso o un'altra sul nero. E vince lo dimostra l'esperienza una volta sì e una no. Nel 2014 sembrava Napoleone ad Austerlitz, oltre il 40% alle elezioni europee grazie anche alla mossa degli 80 euro in busta paga. Poi la stagione delle riforme del lavoro, il Jobs Act imposto anche agli ex PCI ed ex CGL, la disintermediazione sociale e quant'altro rendeva testimonianza di una linea di cambiamento. Poi, confidando nella sua buona stella il giovane Caudillo osa prendere a calci la Costituzione e, nonostante l'appoggio di tanti corifei, perde clamorosamente il referendum confermativo. Rientrato tra le quinte, aspetta il momento buono che si presenta, diversi mesi dopo la sconfitta del 4 marzo 2018, quando Renzi riesce a prendere in contropiede un'azione sbagliata dell'altro Matteo Salvini e a portare un pidi riottoso a formare un governo con il M5S sotto la presidenza di quel Giuseppe Conte che, nel dibattito al Senato nell'agosto 2019, aveva disarcionato di sella il leader della Lega sicuro di aver già vinto la corsa verso i pieni poteri.